Musica Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale Ieri abbiamo parlato di Massimiliano Allegri della critica che è stata rivolta all'allenatore della Juventus della mia personalissima critica che magari è diversa da quella di tanti altri semplicemente perché per me mettermi qua davanti alla telecamera e dirvi Allegri out, Agnelli out, Dybala out mettete il target che volete voi, non vale niente, bisogna scavare più a fondo e cercare di capire i problemi poi ieri chiudo il video con una specie di domanda di ragionamento che vi lascio e cioè, dato che negli ultimi tre anni siamo usciti agli ottavi contro tre squadre diverse, tre dinamiche diverse piuttosto che gli allenatori, sarebbe ora di iniziare a guardare le costanti quindi chi è sempre stato in campo, chi è sempre stato non all'altezza di queste partite ora io non ce l'ho ancora questa risposta, non ho ancora fatto questo intreccio però sicuramente se una cosa si ripercuote nel tempo non può essere sempre colpa di una persona che fa un anno quindi Sarri, Pirlo e Allegri, poi su Sarri c'è da dire che l'esonero è nato prima di quella partita si è creato da solo perché Sarri non stava bene nella Juventus, la Juventus non stava bene con Sarri ed essendo quella stata l'ultima partita dell'anno è sfociata nell'esonero di un allenatore che era stato preso per vincere e più e meglio quindi quello è un discorso ancora diverso perché era una squadra diversa semplicemente quella Juventus quello di Pirlo è stato un esonero sul lungo e quando l'anno scorso usciamo dalla Champions col Porto io lo dico tranquillamente, io stavo dalla parte di Pirlo, io sto con Pirlo e voglio Pirlo ancora un altro anno e poi a fine anno invece arrivo a cambiare idea e perché? E il perché ve lo vado a spiegare all'interno di questo video e faccio il parallelismo con Massimiliano Allegri quindi prima di guardare questo video vi invito a vedere quell'altro che so che è molto lungo ma è necessario per comprendere le cose che diremo oggi perché da oggi in poi inizia il mio guardare avanti il mio guardare avanti nel futuro immediato perché non è finita la stagione non siamo morti è stato un duro colpo ad andare giù io ancora faccio un po' fatica a crederci più che a accettarlo perché accettarlo non so quando lo accetterò ma a crederci e quindi per guardare in avanti questo video è perfetto e OneFootball puro perché vi darò la possibilità di capire le mosse della Juventus attenzione perché ci sono alcune notizie inerenti a Dybala fresche fresche e di cui magari parleremo nel pomeriggio scaricati OneFootball gratis link in descrizione o QR code qui di fianco vi dicevo con Pirlo non sono stato del partito Pirlo Out all'eliminazione della Champions perché ovviamente io lo metto in conto in preventivo che una cosa del genere possa accadere nonostante Cristiano Ronaldo nonostante il Pirlo esordiente nonostante comunque una squadra che stava effettivamente andando bene è un po' come è successo con la di Allegri perché se avete visto il video che vi ho portato qualche giorno fa questo era il momento migliore per affrontare il Villareal a livello di risultati a livello di proprio numeri, statistiche questo era il momento migliore dell'evento di Massimiliano Allegri era il momento di forma maggiore in tutta la stagione e l'anno scorso con Pirlo non ho fatto un video come quello che ho fatto con Allegri ma bene o male a ricordi noi tra gennaio e febbraio facciamo delle buonissime partite quindi magari non era il momento migliore ma uno dei migliori e poi ci sgretoliamo dopo e allora qui torniamo, qui casca l'asino perché adesso Allegri dovrà essere molto, molto bravo molto bravo a fare in modo di passare alla squadra il messaggio che ragazzi non siamo morti anzi fa parte della vita, fa parte della stagione fa parte del calcio e dello sport cadere però bisogna reagire perché se non vai a reagire in questo momento qui allora poi è un disastro ieri vi dicevo c'è stata una frase di Allegri a Prime ad Amazon Prime che mi ha fatto strano perché Allegri va a sottolineare come fosse diventato difficile dato che il Villarreal poi a un certo punto si è messo tutto dietro la linea del pallone e almeno se non aveva più sbocchi e lì dicevo e allora se un'altra squadra si mette a fare questa cosa con noi cosa facciamo? non facciamo tre punti non vinciamo a prescindere, dobbiamo essere bravi ad avere una soluzione alternativa atta a risolvere questo tipo di situazione che è una cosa che spesso facciamo anche noi e che si vede dar fastidio alle altre squadre però se vuoi diventare una squadra forte non è che se gli altri si mettono un di citrone nel pallone fanno densità non li scardini più bisogna trovare un modo per e attenzione perché domenica con la Salernitana allo stadium io mi immagino questo copione a Salernitana che viene cerca di fare almeno un punto perché almeno un punto allo stadium per la Salernitana sarebbe come vincerla la Champions figuratevi tre punti benevento dell'anno scorso perché ragazzi l'anno scorso è successo un sacco di cose assurde dopo l'eliminazione della Champions e non voglio non voglio assolutamente che succedano ancora quindi oltre al discorso tecnico io andrei più che altro a parlare del discorso mentale perché ragazzi se io vado ad analizzare nel modo più semplice e veloce lineare la partita io non credo che ci siano stati dei problemi tecnici o tattici se vogliamo ovviamente c'è questo discorso del loro si sono messi dietro e a noi mancava qualcosa tra le linee ma secondo me è il massimo a cui possiamo andare avanti perché se c'era una squadra in campo l'altra sera era la Juventus ma questo non basta per vincere fare la partita non è sinonimo di vittoria devi rimanere dentro la partita sempre che è questa è questa bene o male la ciccia della critica ad Allegri che poi puoi prendere un gol e non puoi crollare di 3 a 0 non puoi crollare di 3 a 0 quindi questo qui dobbiamo migliorare nella testa più che nei piedi più che nel livello più che in quello che vuole nella testa perché ieri sera qualcuno ragazzi per difendere Allegri alcune persone mi sono venute a dire sì però con questa squadra ma con questa squadra cosa? questa squadra non è all'altezza per battere il Villareal? questa squadra perché io vi ho parlato sì di Rosa Scarsa durante l'anno ma ricorderete bene che dopo il mercato invernale vi dico ragazzi a questa squadra mancava un finalizzatore mancava un centravanti abbiamo preso quello che dovevamo prendere abbiamo addirittura preso un centrocampista abbiamo dato via due giocatori che non erano all'interno delle scelte del tecnico l'abbiamo rinforzata questa squadra l'abbiamo coperto le punti deboli poi certo si poteva fare di più ma siamo a gennaio nel mercato di riparazione più di così era impossibile fare quindi quella squadra che non era proprio il massimo era stata potenziata nei punti in cui serviva poi è vero Zaccaria ieri sera non c'era l'altra sera non c'era Vlaovic sì e nel momento in cui è Vlaovic non puoi più permetterti di non fare i vari palloni che è un'altra delle critiche che per forza di cose mi sento di rivolgere a Massimiliano Allegri e queste cose come dicevo ieri le dico perché ho grande stima rispetto e ammirazione di Massimiliano Allegri perché se considerassi semplicemente Allegri un incapace un inetto direi e per forza siamo usciti dalla Champions c'è Allegri no invece io dato che lo considero un allenatore di livello e lo dice la sua storia mi auguro e mi aspetto soprattutto per via anche del grande stipendio che percepisce d'allenatore di top club e non d'allenatore di undicesimo club in Europa dato che ci sono dieci squadre in avanti no perché Allegri percepisce ingaggio da top club da top manager magari non nei primi 4 nei primi 8 la grande ci può stare e quindi mi aspetto che nel presente per dare il futuro non rimanere aggrappati al passato un po' quello che vi dicevo ieri ma dire che questa rosa è scarsa e che quindi non si poteva fare di meglio ragazzi è un insulto nei confronti di Massimiliano Allegri è un insulto nei confronti di Massimiliano Allegri chi vuole difendere Allegri dicendo eh però sai la squadra è scarsa in realtà sta offendendo Allegri e i giocatori della Juventus sta facendo un torto gravissimo ad entrambi perché perché dire che vabbè allora bisogna uscire perché questa rosa nell'altezza del Villareal significa che Allegri non è un allenatore in grado di superare il Villareal nonostante una rosa che magari non consideri l'altezza e comunque stai dicendo che i giocatori del Villareal sono migliori di quelli della Juve ora io un esercizio semplicissimo banalissimo prendi le due formazioni di partenza gli undici titolari dimmi quanti del Villareal rubi da mettere all'interno la formazione titolare della Juve quanti io sono disposto a essere stupito vi chiedo davvero di rispondere sinceramente nei commenti perché difendere Allegri dicendo che la squadra non è all'altezza per vincere contro il Villareal ragazzi è un torto d'Allegri e ci stanno gli infortuni gli assenti quello che volete ma questa Juve lo stesso con quelli che c'erano nello stato in cui c'erano poteva alla grande vincere il Villareal e infatti ha fatto la partita ed è stata lei la squadra in campo però poi 10-15 minuti di blackout e allora quello non posso permettermi da Massimiliano Allegri non posso perdonarlo a Massimiliano Allegri perché è sempre stato il suo cavallo di battaglia è sempre stato lui a ribaltarle queste partite non farsele ribaltare è sempre stato lui a distruggere l'avversario sotto quel punto di vista anche sul lungo perché se si è contenti della vittoria a Firenze con la Fiorentina per l'autogol di Venuti che è stata una partita nella quale si è stato bravo solo a rimanere dentro la partita e portarla sullo 0-0 fino all'ultimo e sperare nell'episodio non si può essere contenti anche di questa in cui l'hai fatta la partita e si è rimasto 0-0 fino all'ultimo dopo l'episodio premiato gli altri perché sennò semplicemente va bene tutto e no non funziona così io apprezzo sempre la capacità delle squadre legge di rimanere dentro le partite e l'altra sera è stato esattamente il contrario ed è stato un malus ancora più grande quindi attenzione a dire certe cose perché se si cerca di difendere l'allenatore difendere i giocatori offendendo l'allenatore e i giocatori ora qui non mi va bene poi io magari ieri ho anche alzato un po' i toni nella critica però ci sono due cose due cose che non mi vanno mai giù e non mi andranno mai giù uno è la presa per il culo ed è il riferimento che vi faccio tante volte ve l'ho fatto Sarri che va ai microfoni post eliminazione e mi dice ho fame voglio andare a pranzo non mangio da mezzogiorno che lì che lì Sarri sapeva già di essere esonerato ma non prendermi per il culo che io tifoso della Juventus sono morto dentro perché sono uscito gli ottavi di Champions con il Leone e tu mi vieni a dire che hai fame io la sento come una presa per il culo quella è una presa per il culo che non mi andrà mai giù non mi andrà mai giù e la seconda cosa è la mala fede perché parlare di disonestà intellettuale è uguale a Dani che parla di servi di schiavi di Lecchini e di questa roba qui quando si mette in dubbio la bontà del pensiero di una persona io ragazzi non ci vedo più e che quel disonesto intellettualmente fosse riferito ai giornalisti piuttosto che ai tifosi piuttosto che a un tizio che gli aveva fatto girare i coglioni non sono cose belle perché è ovvio che Allegri non può andare ai microfoni e dire che è fallimento ma nel momento in cui mi tira in ballo la disonestà intellettuale senza fare riferimenti senza metterci il soggetto facendo una roba di aloni di mistero non è tanto diverso da Adani sono sulla stessa liga riga sulla stessa linea perché stanno dicendo la stessa cosa chi non la pensa come me è disonesto intellettualmente perché Adani dice chi non dice che la Juventus deve vincere il campionato è disonesto intellettualmente perché io posso avere un'opinione diversa e ce l'ho e non mi sento disonesto intellettualmente Allegri dice chi non parla di fallimento chi parla di fallimento Juve in Champions è disonesto intellettualmente ancora perché io non posso pensare che uscire agli ottavi di Champions quello di Real per 3-0 in casa tua in 15 minuti non sia fallimento sono libero di pensare entrambe le cose e se devo sentire che sono servo da una parte disonesto intellettualmente dall'altra i coglioni mi girano al di là della partita che quelli sono errori che fanno parte di quello che è il lavoro dell'allenatore la mancata lettura il giocatore che sbaglia il gol quelli sono errori ma le parole poi hanno un peso dare dei disonesti o dei servi gente in mala fede non va mica bene sullo stesso livello di Sarri che mi prende per il culo i microfoni uguale stessa cosa sono cose che non manderò mai giù Allegri al club l'anno scorso quando ancora non ero allenatore della Juventus dice una cosa interessante che mi è piaciuta un sacco e che quindi spero che ora possa riutilizzare per dare energia a questa Juventus e cioè l'allenatore il mestiere dell'allenatore come si spiega il mestiere dell'allenatore Allegri dice non lo so neanch'io ma perché non è facile è complicato ci sono due tipi di allenatore quello durante la settimana che prepara la partita e mi sento di dire che la partita sia stata anche preparata bene perché poi effettivamente la Juventus sia stata efficace in campo poi non si è riusciti a concretizzare a finalizzare a ribadire la palla in rete e allora forse mi viene da dire la partita si poteva preparare in un altro modo e cioè secondo i canoni di bruttezza per tanti che Allegri ha seguito fino a questo momento e che gli hanno permesso comunque di portare a casa il risultato quindi non una Juve arrembante già dal primo tempo che poi magari ha finito l'energia come è capitato lo stesso Allegri ci eravamo un po' stanchi perché è vero che la partita è stata preparata bene perché comunque la Juventus è stata la squadra combinata contro il Villareal però devi prendere in considerazione tutto e cioè che poi il risultato dice 0-3 perché eravano stanchi perché non abbiamo gestito l'imprevisto perché non siamo stati in grado di reagire perché tutte le energie avevamo usate nel primo tempo allora si preparata bene perché effettivamente la Juve è solo classato il Villareal l'ha preparata meglio Emery dicendo la lascio sfogare poi con i cambi metto energie fresche e vado a fare male è un gioco di scacchi e quindi Allegri dice c'è l'allenatore che prepara la partita in settimana fa il piano gara e tutto e poi c'è l'allenatore in campo e Allegri dice proprio cosa ne sai se dopo tutta la partita che hai preparato te ne buttano fuori uno dopo dieci minuti e allora lì è stato lì che è mancato Massimiliano Allegri Massimiliano Allegri ha perso nel gioco in cui è più bravo di tutti e cioè capire i momenti della partita leggere la partita e quante volte lo stesso Massimiliano Allegri si è rivelato efficace e bravo in queste cose mi viene in mente il doppio cambio col Tottenham che qualsiasi persona qualsiasi divoso avrà detto ma è matto ma perché e poi quei doppi cambi invece ti portano alla rimonta proprio al passaggio del turno in Champions League queste cose in queste cose è mancato Massimiliano Allegri dove Massimiliano Allegri fino a qualche anno fa era quello bravo perché ci sono due tipi di allenatori quello che prepara la partita in settimana e lo stesso allenatore poi durante la partita deve avere un'altra lettura per me è sbagliato è la mia sincera opinione devo prendermi del servo del disonesto prenderò quello che che verrà da da uno dei due poli che ne so fatto sta ragazzi che adesso c'è l'Allegri che prepara la partita durante la settimana c'è quell'Allegri quel tipo di allenatore e che prepara il gruppo a livello psicologico perché davvero io ve lo torno a dire parlarmi di giocatori mercato perché anche Allegri poi parla di mercato in conferenza stampa no 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 adesso adesso questo momento qui per non finire per non morire per non distruggere la stagione questo momento qui è il momento del cervello è il momento in cui tutti rimangono concentrati e non mi ripresentano il conto di Juventus Benevento di Juventus che perde in casa tra zero col Milan che potrebbe essere l'Inter no adesso è il momento in cui la Juventus per terminare dignitosamente l'anno me le prova a vincere tutte e non mi importa in quale modo non mi importa in quale modo che sia il modo arrembante dell'altra sera o che sia soffrendo come quello Spezia non mi importa adesso c'è da portarle a casa mancano nove partite di campionato ed è finita la stagione non è che ora possiamo iniziare un nuovo percorso una nuova maturazione una nuova Juventus infatti sono stupito che l'altra sera in una partita del genere ci siamo messi a fare una partita che non sappiamo fare perché non le abbiamo mai fatte e che probabilmente non siamo nemmeno in grado di fare con questi giocatori perché poi non è il livello dei giocatori che ti permette di fare quelle partite sono le caratteristiche la tipologia dei calciatori e l'allenamento cioè farlo ripetutamente abbiamo forse chiesto un po' troppo abbiamo preteso un po' troppo perché proprio non le avevamo mai fatte e perché accantonare il metodo che invece ti ha permesso di recuperare tanto terreno e cioè sì soffrire ma accettare e soffrire e poi colpire magari ripartenza invece loro belli compatti dietro non li abbiamo scardinati sugli esterni andavamo mettavamo il cross loro coprivano bene il centro e mezzo mancava sempre qualcosa e sì può essere il centrocampo o può essere anche il fantasista come potrebbe essere Paolo Di Bala che sarà il tema del video di oggi pomeriggio grazie a tutti